buona giornata amici ben ritrovati questa è la rassegna stampa di fano tv oggi è mercoledì 28 luglio 2021 siamo ormai arrivati alla fine del mese mancano pochissimi giorni siamo in alta stagione turistica e vedremo un po gli effetti del tempo poi delle situazioni della sanità gli arrivi dei turisti insomma sono queste un po le notizie del giorno a parte a parte la cronaca ma le leggeremo poi tutto quello leggeremo tutto quello che è avvenuto nelle pagine del resto del carlino e del corriere adriatico prima però diamo un'occhiata al santo del giorno e al meteo il santi del giorno sono due santi nazario eccelso sono due martiri cristiani che sono stati martirizzati durante la persecuzione di dio cleziano nel quarto secolo ovviamente dopo cristo sono stati martirizzati a milano e la loro tomba è stata scoperta da sant'ambrogio il quale il quale ha portato poi le reliquie in alcune chiese milanesi santi nazario eccelso diamo un'occhiata ora al tempo vediamo che il tempo non ha grandi variazioni rispetto a ieri il tempo è incerto parte nuvoloso parte solleggiato comunque sembra secondo le previsioni degli esperti che ci sia ancora più caldo specialmente nei settori interni che toccheranno punte di 36 gradi addirittura affoso il tempo è soprattutto molto umido lungo le coste i venti sulle coste medio da est sud est sull'interno invece un vento debole da sud ovest ed ora passiamo a vedere se queste previsioni sono confermate dal nostro amico andrea bazzani il bagnino dello chalet amorino di porto san giorgio buongiorno andrea allora il tempo buongiorno allora il tempo gli esperti dicono che sarà più caldo di ieri e il tempo un po è soleggiato ma con nuvole tu confermi questa cosa si confermo stamattina è un po nuvoloso e adesso a metà mattinata quando salirà un po di scirocco l'umidità sarà altissima ecco ieri abbiamo cominciato con le condizioni del tempo nella stessa allo stesso modo di oggi poi durante la giornata cosa è successo è schiarito oppure si è rannuvolato è schiarito è migliorato ma era molto caldo molto caldo e molto umido comunque l'affluenza in spiaggia c'è stata sì sì già stata allora io ti voglio fare una domanda questa mattina di solito capitano degli incidenti durante l'estate purtroppo qualche imprudente fa il bagno quando non dovrebbe farlo oppure si sente male tu quale consiglio potresti dare alla gente poco esperta del nuoto quando si getta in acqua per evitare dei casi insomma drammatici per la gente che non sa nuotare e vuole farsi il bagno consiglio sempre di non strafare se uno non sa nuotare rimanga dove l'acqua è bassa se si vuole rinfrescare tutto quanto e andare sempre a fare il bagno in due magari a certo soprattutto anche quando si tende a fare il bagno dopo mangiato insomma un periodo che non è i più opportuni dopo mangiato assolutamente sconsigliato e specialmente sconsigliato quando si è passato molte ore sotto al sole ad alte temperature sentiti sono gradualmente ti sono capitati casi di salvataggio hai dovuto soccorrere alcune persone no quest'anno no in passato no e speriamo che non succeda certo certo in passato è successo è successo qualcosa pochissimi episodi ma cioè bambini più che altro spaventati da dalle onde ho capito comunque l'importante è la sicurezza e la tranquillità bene andrea questo era l'ultimo giorno noi ti salutiamo ti facciamo tanti auguri per una buona stagione grazie ciao grazie ciao buona giornata ciao a tutti buona giornata allora ora diamo un'occhiata ai giornali a partire dal resto del carlino abbiamo sempre la sanità in prima pagina il richiamo riguarda il green pass gli albergatori al buio al buio nel senso che ancora non sanno ancora qual è il loro compito quello che devono garantire se la sicurezza il controllo che cosa chiede loro il governo non si sa se gli ospiti devono usarlo il green pass nelle aree pasti cioè io vado in albergo non devo usare il green pass per prenotare una stanza ma se scendo poi nella sala ristorante che cosa accade devo avere il green pass oppure non posso mangiare se non ce l'ho insomma questo è tutto ancora da chiarire l'apa l'associazione scrive agli associati stiamo chiedendo chiarimenti quindi ancora non si sa si fanno le leggi poi magari non tutto viene chiarito gli altri richiami riguardano i professori marchigiani che sono promossi perché sono stati vaccinati al 95 per cento quindi solo una piccola percentuale ancora deve fare il vaccino e poi vediamo assembramenti sul lungomare multati due locali uno viene chiuso a marotta per quanto riguarda lo sport vediamo che l'alma ancora deve aspettare una settimana per sapere il suo destino se andrà in serie c o rimarrà in serie d si decide il 2 agosto per quanto riguarda la vis anche besea è ufficiale e gli acquisti ancora non sono finiti due richiami a fondo pagina al seminario vescovile arrivano i carabinieri per quanto riguarda fano e a urbino imprenditori visionari il sigillo a selci e rupoli ebbene vediamo subito la pagina interna del resto del carlino per quanto riguarda le manifestazioni e gli effetti che la pandemia provoca sulle stesse il roffa la prova della carta verde tanti stranieri ma siamo attrezzati garantisce il sovraintendente ernesto palacio l'evento si svolgerà dal 10 al 21 agosto prossimo il roffa di pesaro il sovraintendente dice il nostro pubblico all'occorrenza potrà fare il tampone nelle farmacie della città come del resto accadrà per chi viene dal regno unito io vi ricordo anche che tutti coloro che vogliono fare il tampone possono farlo in farmacia come richiedere il green pass o fare le vaccinazioni all'accesso di ogni spettacolo a pesaro il cartellone pesarese prevede 30 spettacoli nel mese di agosto avverrà la misurazione della temperatura corporea e poi dovrà essere verificata la validità della certificazione verde e l'identità della persona che intende accedere per questo gli operatori avranno un dispositivo con un applicativo in grado di controllare il qr code rilasciato dal sistema sanitario nazionale chiederanno allo spettatore la carta di identità quindi green pass carta di identità e misurazione della febbre e qui ancora nelle sale da pranzo serve il green pass punto interrogativo di questo abbiamo già parlato albergatori nel caos nessuno chiarisce vaccini professori marchigiani promossi senza siero è rimasto solo il 5 per cento ma qui c'è una piccola discrepanza tra il titolo e l'occhiello il titolo dice senza siero è rimasto solo il 5 per cento su 35 mila 812 docenti sottoposti almeno alla prima dose ben 34 mila 73 e allargando la base di calcolo anche al personale ata e gli insegnanti nuovissitarie hanno avuto il vaccino rimane un 10 per cento ancora non immunizzato allora senza siero è rimasto il 5 per cento ma il 10 per cento ancora non è immunizzato tampone salivare assalto alle farmacie ha cominciato peroni a pesaro si sono poi aggiunte le farmacie di madonna di loreto l'antonioli teste sono gettonatissimi per bimbi e vacanzieri al rientro il costo è solo di 18 euro il vantaggio è la minore invasività la risposta sia in soli 15 minuti giriamo pagina e vediamo una notizia che interessa l'ordine pubblico tre passi per fermare alcol e droga al volante be responsabile la tripla frase del progetto del comune rivolto soprattutto ai giovani formazione e prevenzione poi servizi mirati ebbene contrastare la piaga degli incidenti stradali causati dalla droga e dall'alcol cercando di formare i giovani per far sì che non accadono poi tutte quelle tragedie che conosciamo lungo le strade è l'obiettivo del comune di pesaro l'assessore a rigore delegato alla sicurezza e alla polizia riccardo pozzi ha annunciato l'arrivo di 287 mila euro i soldi provenienti dalla vittoria di un bando ministeriale sono stati aggiudicati al comune grazie alla collaborazione con la polizia locale e al comitato cittadino della croce rossa italiana per tutti i controlli che sono stati fatti il programma consiste in tre categorie informare formare e prevenire l'informazione servirà a rendere i cittadini consapevoli della pericolosità dei comportamenti a rischio legati allo stato dell'ebrezza scooter contro un'auto paura sul cavalcavia e in piazzale matteotti una ragazzina sul motorino è stata travolta da una macchina poi uno scontro in a 14 e a proposito di sicurezza queste notizie di cronaca avvallano i timori dell'assessore pozzi due incidenti ieri a pesaro in città e uno in autostrada un bilancio quello di ieri nel quale non figurano per fortuna feriti gravi ma solo spavento danni ai mezzi e disagio al traffico il primo schianto è successo nel primo pomeriggio alle 15 e 30 sul cavalca ferrovia un'auto e uno scooter si sono scontrati il conducente delle due ruote finito in terra ma non avrebbe riportato conseguenze gravi l'altro incidente è accaduto invece nel tardo pomeriggio in piazzale matteotti una ragazzina in sella ad uno scooter è stata travolta da un'auto tanto spavento ma anche in questo caso qualche lieve contusione ladro fuggito in chiesa dopo un furto patteggia nove mesi di reclusione si tratta di un 65enne senza fissa dimora aveva ottenuto i domiciliari ma resta ancora in carcere perché non ha una residenza e qui ci sono due fatti curiosi allora l'accusa ha contestato all'uomo di essersi intascato 50 euro ma all'udienza di convalida è emerso che ne aveva rubati 13 mentre gli restanti 40 erano le sue e 13 euro ed è in galera l'altro fatto si riferisce alle dichiarazioni che l'uomo aveva rilasciato alle forze dell'ordine aveva dichiarato di essere residente a fermignano ma l'indirizzo fornito è risultato inesistente così la procura gli contesterà anche la dichiarazione mendace insomma sono reati lievi però questo uomo questo poveretto è sempre un ladro è per carità rimarrà in prigione per 13 euro bene giriamo e parliamo ancora di carabinieri ma qui la questione più seria e più delicata siamo su fano si riporta in apertura un secondo articolo rispetto a quello pubblicato ieri sulla vicenda della casa del clero dove indagano i carabinieri arrivano i carabinieri anche al seminario vescovile a sede della curia dopo la denuncia di don luigi spallacci che aveva così messo in evidenza una scarsità di assistenza nella casa del clero durante le ore notturne il fascicolo ora è in mano alla procura la curia conferma il nodo dell'assistenza ieri ha rilasciato un comunicato il caso della dipendente che aveva ricevuto dei regali che forse non doveva ricevere ieri la curia ha emesso una nota visionata dal vescovo monsignor trasarti per dire che all'interno della casa del clero vi lavorano quattro persone tutte regolarmente stipendiate con l'aiuto di due suore che i locali di via montevecchio sono stati ceduti incomodato gratuito e che la fondazione gestisce anche altri beni ricevuti in donazione la curia fa sapere inoltre che non può disporre un infermiere 24 ore su 24 per cui può capitare che all'emergenza i presbiteri si soccorrano a vicenda ovvero se uno si sente male alla notte può chiedere aiuto ai suoi confratelli quindi si entra nel merito anche della denuncia di don Luigi in merito alla situazione della donna i carabinieri ora vogliono approfondire la situazione e rapporti con il personale e con i responsabili della fondazione e veniamo al caso della politica insomma che fa discutere in questi giorni una politica in crisi all'interno del partito democratico che però determina anche ripercussioni all'interno della giunta perché il partito democratico è il più grosso partito che fa parte della maggioranza maggioranza fragile al lavoro i pontieri la mozione sull'aset aset pubblica aset privata fusione non fusione deve essere approvata con i voti anche dell'opposizione si lavora per modificarla e trovare la sintesi è sull'orlo di una crisi non di nervi ma di maggioranza la mozione appunto sulla azienda controllata dal comune firmata dal PD in comune e azione per ribadire il no alla fusione e accelerare sul biodigestore il biodigestore di cui si parla tanto si sono spese tante parole ma ancora rimane al palo una seduta una nuova seduta del consiglio comunale è stata convocata per il 30 di luglio e l'aset sarà sempre al centro della discussione vedremo poi come la cosa si evolverà due locali multati a marotta i carabinieri guidati dal luogotenente giuseppe zocchi hanno sanzionato tre locali sul lungomare cristoforo colombo per le violazioni delle norme anti covid per due di questi l'extra boccio e new sun city beach i militari hanno fatto scattare l'assenzione di 400 euro per il terzo il tritone beach caffè che già aveva subito la multa per analoghe violazioni nell'agosto dell'anno scorso e due volte nel maggio scorso oltre all'ammenda è stata combinata anche la chiusura per cinque giorni anziché due alla per due giorni insomma chiamata le armi dei cinque stelle a mondolfo con cittadini scendete in campo appello in vista delle elezioni amministrative d'autunno nel 2016 il il cinque stelle il movimento cinque stelle ottenne il 22,69 per cento e ora comincia la campagna elettorale ad entrare nel vivo sulla pagina di urbino piano unesco la parola passa ai cittadini otto anni dopo il comune si prepara a rivedere la gestione del sito e c'è anche la collaborazione con l'università carlo boh il vice sindaco massimo guidi dice serve per preservare e valorizzare i luoghi ebbene tal indagine quella che sta attivando il comune sarà il punto di partenza della revisione e coinvolgerà residenti studenti turisti commercianti pendolari e chiunque frequenti il centro storico della città ducale per capire come il piano serva per preservare e valorizzare tutti i siti urbino è una città d'arte stupenda e quindi deve essere mantenuta curata con la massima attenzione ma a urbino c'è un problema c'è un problema perché i cinghiali non sono lontani dal centro storico allarme cinghiali la tensione rimane alta l'intervento di andrea busetto vicari le misure in campo sono troppo temporane e non all'altezza di contenere il numero andrea busetto vicari è l'agricoltore che più di tutti in provincia non solo in provincia ma non solo ha preso a cuore il problema degli ungulati insomma è uno che batti e ribatti e veramente batte sull'incudine fin quanto qualcuno non l'ascolta le misure in campo ha detto sono troppo temporane e numericamente non all'altezza di contenere il numero dei cinghiali che è diventato spropositato e che orbita intorno ad urbino nel frattempo è entrato in azione il protocollo firmato da regione e comuni ed altre associazioni di categoria è scritto qui nell'occhiello sasso corvaro auditore l'estate riparte dai borghi un programma ricco di eventi di manifestazioni di appuntamenti per riportare turisti e visitatori nelle piazze sasso corvaro una bellissima città nell'entroterra pesarese e merita una visita soprattutto per vedere la rocca che è veramente molto molto bella ed ora passiamo al corriere adriatico il la sintesi sulla prima pagina sanità rivoluzione in vista nell'ipotesi all'esame della giunta che cosa accade c'è non è una riforma è una vera e propria rivoluzione marche nord diventa provinciale e sarà affiancata da altre quattro aziende la medicina del territorio sarà scorporata per una gestione autonoma regionale la rete ospedaliera integrata vediamo ora i richiami della cronaca a pesaro sballati alla guida 30 servizi su strada grazie ai fondi vinti e poi nasce la task force per le donne vittime di forme di violenza insulti ed oltraggio a processo gli ater del sindaco reci ebbene vediamo subito la questione della riforma della sanità sulla pagina di pesaro perché ci sono notizie che interessano anche fano rivoluzione per la sanità marche nord provinciale con altre quattro aziende nell'ipotesi all'esame del governo della regione scorporata la medicina del territorio più qualità con una rete ospedaliera integrata e l'autonomia della sanità distrettuale approfondiamo un attimo questa notizia l'azienda marche nord a cui appartengono in questo momento gli ospedali di fano e di pesaro ingloba altri ospedali come quelli di urbino e di pergola secondo il progetto della regione che è in itinere che è in fase di formazione e vengono istituite altre quattro aziende ospedaliere territoriali una per provincia la medicina del territorio che è sempre sotto la lente di ingrandimento perché quella più debole verrà gestita con un'azienda regionale autonoma per valorizzare la prevenzione e la presa in carico domiciliare e residenziale importante dei pazienti restano con le attuali funzioni di secondo livello le aziende ospedali riuniti di ancona e l'inrca le aziende sanitarie marchigiane passano da 4 a 8 e nasce una rete ospedaliera integrata compatibile con i parametri del decreto ministeriale 70 del 2015 con il recupero di funzioni decentrate negli ospedali minori chiusi dalla riforma cerisciò gli effetti del virus in aumento e disturbi alimentari galantara servizi da rafforzare tendenza raddoppiata in un anno occorrono psichiatri e psicologi la pandemia e le restrizioni incidono nel rapporto col cibo e cresce bulimia e anoressia ecco perché appunto sono queste patologie che meritano anche un approfondimento psicologico ecco perché appunto a galantara si rafforza il personale ristò arrivate le dosi giovani tra i prenotati per il primo vaccino a partire da oggi a essere nuovamente garantita la consueta fornitura finalmente dopo la parentesi dello scorso fine settimana quando sono venuti a mancare i vaccini sia pesaro che affano adesioni nella fascia tra i 20 e 40 anni che in questo momento è sotto la media le attese dosi pfizer sono state consegnate e per oggi è previsto un secondo quantitativo tirano così un sospiro di sollievo agli operatori stessi come stefano de angelis e il dottore augusto liverani e che sono i coordinatori del centro di prenotazioni del dipartimento di igiene e sanità della salute dell'area vasta 1 alcol e droga alla guida 30 servizi programmati ci sono controlli notturni della polizia locale sulle strade con test per i conducenti il progetto predisposto dal comune si aggiudica un bando da 287 mila euro quindi ancora più informazione ancora più prevenzione per quanto riguarda gli incidenti stradali e contro la violenza delle donne scende in campo la task force sono 20 i soggetti coinvolti si rafforza la rete provinciale con un tavolo permanente la violenza sulle donne è sempre un tema da porre in evidenza perché non nonostante tutti gli appelli tutte le opere di sensibilizzazione continuano purtroppo purtroppo i femminicidi ebbene sono molti i soggetti coinvolti ci sono tutti e sette gli ambiti territoriali sociali la prefettura la questura le procure di pesaro urbino il tribunale dei minori i carabinieri l'asur l'area vasta 1 l'azienda ospedaliera marche nord la provincia l'ordine dei medici l'ordine degli psicologi l'ordine degli avvocati di pesaro l'ordine degli assistenti sociali un'intesa che rafforza l'impegno e gli obiettivi dei soggetti che fanno parte di tutta quella rete antiviolenza che dovrebbe porre uno schermo tra le vittime e loro persecutori insulti al sindaco se il joker ha processo gli ater dei social in due a giudizio per difamazione serie denunce del comune per chi è parte l'esa e vediamo come sta vicenda come sta per essere definita di fronte al tribunale per quanto riguarda valle foglia vi segnalo questo articolo alleanza 6 per il tartufo in rete per gusto e turismo alla ginesta è stato presentato il progetto enogastronomico itinerante sul territorio ed è il progetto tartufo award 2021 a urbino sono dati i pareri degli urbinati sulla gestione del sito unesco al lavoro l'università il sindaco ora dobbiamo togliere le auto dal centro sempre un provvedimento molto delicato a fano sostegno verso i più bisognosi la caritas in campo per 31 giorni nel mese di agosto sospende la sua attività la mensa di san paterniano ma coloro che sono senza tetto e che hanno non hanno disponibilità economiche per conciliare il pranzo con la cena potranno recarsi nel centro pastorale nel centro diocesano di via roma dove prenderà il via la mensa sostegno sostegno perché verrà garantito un pasto da asporto per tutti i giorni compreso il ferragosto del mese di agosto e lucevan le stelle trionfano arte cultura un nuovo programma di iniziative di manifestazioni molto vario per buona parte del mese di agosto a fano una sinergia tra enti per allestire un calendario di attrazioni dal 3 agosto fino al 18 e poi ancora la questione politica sul corriere adriatico una questione ideologica ora contano le dimensioni aset la segreteria provinciale fanese del pd dissidenti reazione scomposta bene questa era l'ultima notizia ma prima di chiudere voglio dirvi che appunto per lo sport mentre per la vis procede la questione degli acquisti per l'alma ancora qualche giorno di attesa per sapere il suo destino e questo è un po il sunto delle notizie riportate oggi dai giornali e questo per il momento è tutto grazie per l'attenzione vi do appuntamento per l'informazione delle 20 e 30 buona giornata grazie per l'attenzione vi do appuntamento